Sono Davide Gerardi e sono cuoco dell'Osteria i 4 Ferri, insieme ad un altro ragazzo che si chiama Dario. Geschisco questo locale con le mie due socie Barbara De Mattia e Betty Valentini da 20 anni ormai. Cerchiamo di fare una cucina veneziana mantenendo la tradizione e a volte usiamo un po' di fantasia e aggiungiamo qualche altro ingrediente che ci ispira la mattina al mercato. Questi sono i piatti che abbiamo fatto oggi. Questa è un'orata con i friarielli. Praticamente abbiamo sfilettato l'orata, abbiamo infarinato e cotto in padella con l'olio caldo, l'abbiamo girata e poi l'abbiamo asciugata con la carta. A parte abbiamo preparato precedentemente una salsa con i friarielli, abbiamo scottato i friarielli, li abbiamo un po' ridotti dal liquido loro e abbiamo appoggiato sul piatto e con l'orata messa a foglio. Abbiamo degli scampi con carciofi e paccheri, praticamente si prepara una salsa con i cuori di carciofo, un po' di olio, un po' di aglio, si frulla, poi si aggiungono i carciofi tagliati sottili e si fa questa salsa. Si mondano i scampi, si tagliano, si aprono a metà, si scottano con l'olio molto caldo e si aggiunge il brodo di pesce per allungare un po' la salsa. Qui abbiamo i bigoni in salsa che è un piatto tipico veneziano. Praticamente è una salsa fatta con le cipolle bianche, tagliate, si aggiungono le acciughe e l'olio delle acciughe dentro e si cuoce per un'oretta, un'oretta e mezza. Alla fine si prepara normalmente bollendo la pasta, aggiungendo sulla salsa nella padella e spadellando gli ingredienti. Noi vi aspettiamo qua, se volete venire vi accogliamo a braccia aperte. Noi siamo a Venezia, in campo San Barnaba, al civico 2754, Osteria 4 Feri. Ciao a tutti! Grazie a tutti!